Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A1 controllo della velocità attivo tra incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Prestare attenzione alla pioggia sulla FIPILI lungo tutto il percorso. Sulla statale 1 Aurelia scambio di carreggiata per lavori tra Venturina e Riotorto in direzione Sud. Per lo stesso scambio di carreggiata è chiuso lo svincolo di Venturina sempre in direzione Sud. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero senso unico alternato per Frana al chilometro 68 e 950 tra Popiglio e la Lima. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!